Segretario, i numeri parlano da soli. 12.409 a Gela hanno votato no, 7.857 sì. Avere sostenuto Matteo Renzi in una città che ha perduto lo stabilimento e Matteo Renzi, il Premier, è stato definito l'altefice della chiusura, non è stato assolutamente facile. Io sgancio il mio ragionamento rispetto a una vicenda semplice. Io devo ringraziare tutto il gruppo dirigente che da maggio ha iniziato questa straordinaria campagna elettorale, che non era una campagna elettorale a favore o contro Renzi. Purtroppo noi non siamo riusciti totalmente, non solo a Gela ma a tutti i livelli, a sganciarci da questa cosa, ma era una campagna dal nostro punto di vista per mettere in campo una grande visione di cambiamento e di innovazione del Paese. Chiaramente noi ci siamo spesi perché rispetto a questa idea di cambiamento ci credevamo e ci crediamo e rispettiamo l'elettorato che invece non ha voluto dire no. Ma è una vera e propria mazzata per il Partito Democratico? E' cestamente un risultato negativo che ridimensiona profondamente il Partito Democratico sul piano dei numeri, su questo non ci sono dubbi. Contemporaneamente però voglio ricordare che il dato nazionale ci parla di un 40%, che mentre dall'altra parte, diciamo socialmente solo dell'area democratica, mentre dall'altra parte mi sembra che ci siano tra movimenti, sigle sindacali, associazioni, una ventina di sigle, quindi insomma lì bisogna capire cosa succede. Però guarda io non voglio buttarla adesso nella polemica. Ripeto, noi abbiamo fatto una grande battaglia di cambiamento. Abbiamo perso, ne prendiamo atto e cerchiamo di ripartire rispetto a quel dato. Però anche all'interno del PD, mi riferisco a livello nazionale, c'erano due anime. C'era chi diceva sì, c'era chi diceva no. Sì, purtroppo un pezzo del partito non ha condiviso il percorso. Io vengo dalla sinistra del mio partito, da quella storia e ritengo che questa idea di cambiamento meritasse sostegno. Perché era un'idea, ed è un'idea utile al Paese, che avrebbe semplificato profondamente la struttura del Paese. Detto questo, è andata così, bisogna ricostruire dal dato, che comunque, ripeto, nazionalmente è un dato del 40%, e chi pensava che la città di Gela sarebbe sganciata rispetto al dato regionale, non è stato così, visto che Gela è pienamente nella media regionale, che purtroppo è una media negativa, e non è una scusante, ma è un dato di fatto, molte città di proporzioni grandi hanno anche fatto peggio di Gela. Questo dimostra che il trend, alla fine, è stato un trend politico nazionale, e che alcune vicende localistiche, diciamo, non sono completamente centrate all'interno della discussione. Ripeto, il Partito Democratico riparte da questo dato, con grande umiltà e rispettando le elettrici e gli elettori che hanno scelto di non sostenere questa riforma.